Carlo Palmieri, Vice Presidente di Sistema Moda Italia con Delega al Mezzogiorno. Allora, oggi parte questo importante evento, tutti i brand importanti di moda e abbigliamento. Quali sono i contenuti di questo evento importanti per chi si occupa di alta moda? È sicuramente una tappa importante sulla crescita del nostro territorio, ma in particolare per le aziende del nostro settore moda che hanno la possibilità di evidenziare il loro lavoro continuo e costante con Bayern che arrivano dai cinque continenti. Quindi un momento di profonda attenzione che il Mezzogiorno merita e le aziende della moda meritano. Quanto conta il Made in Italy? Quanto conta anche il Made in Naples, potremmo dire, all'interno di questo comparto? Io credo che il Made in Naples sia uno degli assi fondanti del Made in Italy. Sappiamo che a Napoli nel Mezzogiorno sono nati brand e aziende che hanno una presenza costante e continua sui mercati internazionali e quindi è fondamentale avere loro come riferimento, ma principalmente per far crescere tutto quello che c'è attorno a questi grandi brand.